Ed ora lo sport, intanto con gli ultimi aggiornamenti sul Pescara, a breve dovrebbe arrivare, parliamo di calciomercato, la fumata bianca per una maxi operazione con la Ternana. Gli Umbri sono pronti a rilevare il cartellino del difensore danese Fedrik Sorensen in cambio del laterale sinistro Paolo Frascatore classe 1992 che ha vestito la maglia del Pescara per sei mesi nel 2013 e dell'attaccante Guido Marilungo, 32 anni, ex Virtus Lanciano. In caso di partenza di Vincenzo Fiorillo in direzione Salerno non è escluso l'arrivo in Abruzzo del portiere Anthony Iannarilli, trentenne di proprietà proprio della Ternana. Entrato oggi primo allenamento con i nuovi compagni per Tommaso Cancellotti, 29enne laterale destro ex Teramo, prelevato dalla Perugia.